Il nostro ospite in studio con noi oggi è Jacopo Sipari, direttore d'orchestra, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno a voi. Sipari è anche il direttore artistico del Festival Internazionale di Mezzestate a Tagliacozzo, che quest'anno presenta un cartellone davvero ricchissimo di eventi. Ci dica gli appuntamenti più interessanti. Devo dire che quest'anno probabilmente ci siamo un po' superati. Apriamo questa sera con questa inaugurazione quasi inusuale con il balletto Lago dei Cigni, un po' il principe dei balletti mondiali, con l'opera di Stato di Varna, che è uno dei numerosi teatri con cui il Festival ha rapporti internazionali. E poi via per oltre 20 giorni con numerosissimi concerti e l'istituzione sinfonica abruzzese, che è la nostra ormai orchestra residente da diversi anni, con ospiti internazionali. E poi la sezione, diciamo forse più attesa, quella della musica leggera, con Roberto Vecchioni, Loredana Bertè, Massimo Ranieri, il grande concerto di Venditti De Gregori, Raffael Gualazzi e poi gli special, come li definiamo noi, dedicati alla memoria, in questo caso, di Luigi Tenco e di Nino Rota e l'attesissimo concerto dedicato a Michael Jackson, di quel genio di Roberto Molinelli. Quindi si spazia dalla musica classica al pop. Il Festival è arrivato alla sua 39esima edizione. Quanto è difficile, ma anche stimolante, portare avanti un'esperienza del genere? Beh, indubbiamente è una grande responsabilità, perché 39 è un numero molto pesante, che dimostra che c'è stato un lavoro lunghissimo, oltre decennale, negli anni precedenti. La nostra grande responsabilità è sicuramente non abbandonare mai le gloriose radici di questo Festival, ma, come lei giustamente sottolineava, dare qualcosa di nuovo. E il pubblico è sempre più esigente, perché tanto più il calendario diventa interessante, tanto ovviamente le aspettative si alzano. cerchiamo ogni anno di rispondere a una sola domanda, cioè cosa può piacere veramente a noi? Perché quello che può piacere a noi potrebbe probabilmente piacere di più al pubblico. E c'è anche un legame fortissimo col territorio che si rinnova. Assolutamente sì, per noi Tagliacozzo ormai è divenuta veramente una colonna importante culturale, non solo per l'Abruzzo, ma per l'intero territorio nazionale. e il nostro obiettivo è valorizzarlo sempre di più, non solo a livello culturale, ma cercando di dare respiro a tutte quelle che sono le attività che ruotano intorno alla cultura. Grazie a Jacopo Sibari. Allora appuntamento a Tagliacozzo per il Festival.